Quando un cavallo non è lavorato su tutte e due i diagonali di trotto, guardandolo frontalmente in questo modo, così come i bordieri, vi accorgerete che avrà una spalla muscolosa e una invece piuttosto piatta. Ulisse le ha entrambe piatte perché sta iniziando adesso il lavoro al trotto. Ed è facile capire se un cavallo è stato ben lavorato al trotto. Guardate che il trotto è andatura molto difficile. Io considero che il più difficile in assoluto è il passo, ma il trotto è altrettanto difficile, è fatto bene. Lo scambio, stando per un tempo e mezzo seduti, quando noi cambiamo mano, è indispensabile per cambiare diagonale di trotto. Adesso con Francesco al trotto, vedrete che lui si siede quando il cavallo sarà sul diagonale, cosiddetto esterno, in base alla mano che Francesco prenderà. Altra cosa importante, mentre Ulisse, Castellazio e Ceccio lavorano, vi accorgerebbe alle immagini che Francesco monta gli speroni. Vi chiederebbe perché. E questo può causare delle reazioni al cavallo. Perché si monta con gli speroni, subito. Dopo che si è salita la prima o la seconda volta, lo sperone è un aiuto indispensabile. Ma bisogna saperlo utilizzare e serve proprio per dare quell'impulso in avanti al cavallo. Quindi non vi meravigliate, non è un'azione pesante, cattiva, coercitiva. È uno degli aiuti di cui un cavaliere serio dispone. Guardate il piede calzato di Ulisse, quello con la balzana bianca. Quando Francesco è seduto, il cavallo poggia proprio a quell'anteriore. Francesco è a mano sinistra, quindi sta trottando sul diagonale esterno. E ovviamente poggia, quando Francesco si siede, l'anteriore esterno e il posteriore interno. Adesso cambiamo mano. Ed ecco che a mano opposta, Francesco trotta sul diagonale esterno, questa volta sinistro, prende il nome dall'anteriore. Vede come il cavallo ogni tanto è riottoso? Questo è proprio la bellezza di questi filmati. Sono tutti autentici. Sono scompone l'equilibrio, chiampe e rinforzate. Più con la voce che collegate. Scusa. Bene, cari amici. Quindi è indispensabile cambiare il diagonale di trotto. Altrimenti avrete dei cavalli appesantiti in uno dei posteriori, con delle spalle muscolate in maniera diversa. E questa non è una giusta e buona equitazione per i cavalli. Con questo servizio, con questo filmato, spero di esservi stato di grande aiuto per un tassello in più nel vostro diventare cavalieri dell'antica ma sempre attuale e moderna arte di equitare, che aggiunge a tutti gli aiuti che conosciamo, che vanno Frustino, Sperone, Redine, bla bla bla, questo e quell'altro, anche il sentimento, il sentire. Non vi dimenticate che se avete difficoltà con i vostri cavalli sono superabilissime, dormendo una notte con il vostro cavallo. Io vi devo ringraziare perché siete in tanti, numerosissimi, a telefonarmi e molto più numerosi quelli che mi mandano delle e-mail. Allora vi chiedo una piccola cortesia, scrivete tutti i commenti che volete sui filmati, ma se avete le cose specifiche da chiedermi, non mi scrivete l'e-mail, ci sono i miei numeri di telefono in sovraimpressione, chiamatemi, è più facile, c'è un contatto diretto, posso farvi anche delle domande anche su voi stessi, su come andate a cavallo per cercare di aiutarvi a risolvere il problema. Per iscritto con delle e-mail è molto complicato, ma continuate comunque a chiamare se avete difficoltà. Io sono disponibile per tutti, l'Accademia Italiana di Alta Scuola Equestre è questa, è cultura, è amicizia, è voglia di stare insieme. Devo inviare un saluto a degli amici di Como, che sono Fabio, Barbara e il loro Frisone Black. Che altro dirvi? Grazie sempre per la vostra attenzione e per i commenti gentili che lasciate. Un saluto da parte di Francesco Mistretta e di Ulisse, che tra un po' giungono, eccoli lì, alle mie spalle, stanno trottando benissimo, è il primo giorno che trottano insieme, grazie e alla prossima puntata. Ciao! Grazie!